SONO BELE LE RAGAZZE CHE RIDONO Anche lei non è male. Vestito così, nel fango, con un libro in mano. E poi con quella faccia. Perché? Che faccia ho? Una faccia che ha visto tante facce. Ho saputo che vogliono girare un film da queste parti. E lei? È regista? Sì, sto cercando i posti dove girare. Film sull'agricoltura? Sul tempo che passa. È difficile fare l'attore. Leggi un po' qua. Leggi, leggi, prova. Il ritorno di Casanova. Ma come devo leggere? Come ti viene così semplicemente? Neanche lei conosce Venezia? Chiese Casanova a Marcolina e pensò. La città dove sono stato giovane. Oh, se ti avessi incontrata allora. E gli venne ancora un'idea, quasi più assurda della precedente. Se ti portassi ora via con me. Grazie. Grazie. Grazie.